Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi porto uno dei board game che stavo aspettando in assoluto di più Che è Doom, come vedete qui davanti a me Che è della Fantasy Flight Games, che sono le stesse delle case della follia Viaggi nella terra di mezzo e tantissimi altri giochi Tra l'altro sono fra i developer di board game Che non i miei preferiti ma comunque nella top 10 ce li metto insieme alla Camon ed altri Ovviamente gioco in mano alla Bethesda perché si sa Doom è di loro E portato in Italia dall'Asmo d'Italia Quindi portato in Italia, tradotto e localizzato ovviamente in lingua italiana Dall'Asmo d'Italia che io ringrazio ancora una volta ragazzi Grazie immensamente per avermi fornito una copia di Doom e anche una copia di Narcos Che ovviamente faremo successivamente a questo video Siete sempre lì disponibili a rispondere massimo massimo in 24 a 48 ore Quindi grazie davvero di cuore ed è sempre un mega onore collaborare con voi Premetto una cosa ragazzi, scusate se nel video si senta un pochino il rumore del vento Però la stanza che abbiamo per riprendere è questa Che è un piccolo soppalco e c'è un caldo della madonna Perché ovviamente essendo a soffitto, a tetto Con il tetto di legno, travi di legno Potete immaginare quanto scalda Poi non abbiamo nemmeno un condizionatore qua su Quindi se sentite leggermente questo fruscio Abbiate pazienza, a tempo un mese e mezzo non lo sentirete più Il gioco in questione è un gioco che io voglio definire un po' come fossero a volte videogiochi PVE e PVP Perché in questo gioco si gioca sempre in due parti contrapposte Una squadra, che poi si può giocare in due o più giocatori Però di solito, mettiamo a caso se siano almeno 5 player Una squadra fanno gli eroi, che in questo caso sono i marine Come avete visto in tutti i giochi di Doom Mentre l'altro giocatore farà l'invasore Ovvero sarà quel player che muoverà tutti quanti i mostri Quindi come abbiamo visto nel gioco di Battle Station O come abbiamo visto anche nel gioco di Hero Quest Per farvi un esempio Quindi questo è un gioco che vede contrapposte due parti Che sono i giocatori che usano i marine Contro l'invasore che usa i demoni E ognuno nella missione avrà qualcosa da fare Di solito i marine hanno da fare un obiettivo Da portare a compimento un obiettivo Che potrebbe essere di più disparati e differenti Come ammazzare un demone particolare Ripulire tutta quanta la stazione dei demoni Oppure anche semplicemente attivare qualcosa E prendere un oggetto Mentre invece nel 99% dei casi La missione dell'invasore E quindi del player che muove Del dungeon master che muove i demoni Sarà sempre quello di fraggare Perché c'è anche sta regola in gioco ovviamente Venendo da un videogioco famoso come Doom Non potevano non metterci il termine Fraggare Dovrà fraggare, uccidere Un tot numero di marine Per vincere la missione E il gioco è veramente molto interessante Perché a parte è contenuto come dimensioni Come tali Quindi non serve un tavolo della madonna per giocarci Ma è veramente molto divertente Soprattutto quando si fa la trasposizione Di un videogioco In gioco da tavolo In board game Cos'è la parte difficile? Riuscire a ritirare fuori Le esatte emozioni Che ti dà quel videogioco Che secondo me Come ve l'ho detto Quello che ci è riuscito Meglio di tutti per ora È This War of Mine This War of Mine Infatti è il gioco da tavolo Ed è uguale Identico Spiccicato A fare il gioco per il computer Oppure anche U-Boat Quello della cranio Questo giocando a Doom Vi sembra veramente Di riessere Nell'ultimo Doom uscito Tra l'altro non vedo l'ora Che esca Doom Eternal Proprio lo smonto Quel gioco lì E Vi ci cala veramente Tanto nella parte Ed è un gioco Veramente Veramente Molto bello Che secondo me Merita di essere In tutte le librerie Perché A parte è veloce Ma è semplice Come regole Però è anche bello E divertente Per tutti gli amanti di Doom Che come me Ci sono cresciuti Da Doom 1 e Doom 2 È un tocca sana Bisogna averlo Assolutamente Unboxing Classica copertina Di Doom Bellissima Veramente evocativa Al massimo livello Gioco dell'ID Ovviamente della Bethesda Proprietà della Bethesda Board Game Della Fantasy Flight Games E come vi ho detto Portato in Italia Dall'Asmo di Italia Che ringrazio Ancora una volta Che questo è uno dei giochi Che in assoluto Aspettavo di più Ma forse non è tanto Per il fatto Che come regolamento E altre cose Sia bellissimo Quanto perché è un gioco Veramente Cioè è un board game Evocativo Qui si parla di 30 anni di storia Di videogiochi Veramente Apriamo Regolamento di gioco Facile Veloce Immediato Letto veramente una volta Basta e avanza Compendio delle regole Se qualcosa non vi torna Ce l'avete a portata di mano Molto interessante Questo perché Invece di impazzire A girare per il manuale Guardate l'indice di questo E trovate subito La regola che state cercando Manuale operativo Che può essere giocata A singola missione O a campagna Con tutti gli scenari del gioco Sia per i marine Che per l'invasore Tile di gioco Componibili A incastro Nel classico stile Della fantasy flight games A incastro Quindi occhio Non lo rompete Perché ripeto Sono tutti quanti Token in incastro Token vari Che tra l'altro Sono anche pochi Anche ridotti E quindi grandissimi Numero 1 Dadi rossi e neri Per le azioni Per gli attacchi E stand di plastica Per mettere a volte Le porte Altri pezzi Che potrebbero servire Varie carte Classe Ed effetto E malloppone Di carte Mostri Marine Carte evento Equipaggiamenti Ed altre cose Ed è una busta Piena di 37 miniature Che ora ve ne faccio Vedere qualcuna Il classico demone De doom Tra l'altro ragazzi Bellissime Bellissime Al solito Come tutti i giochi Della fantasy flight Proprio non si trattengono Da fare miniature Bellissime Di alta qualità Spettacolare ragazzi Poi vabbè Evocativa bestia Mamma mia Quella di pingerle Amore Verrà qualcosa di spettacolare Due marine Uno con un'arma a distanza E uno con una motosega La classica motosega Dell'ultimo doom Quella che ti fa Il colpo finale Alla fatality E ti smembra Ti apre Bellissimi ragazzi Bellissimi Il cacodemone La figura più Famosa Il demone più famoso Di tutti i doom Da doom 1 Fino all'ultimo doom Spettacolare Un po' un beholder Dai del fantasy Ma di che diamine Stiamo parlando ragazzi Cioè Guardate lì Cos'è questo Cioè Fuori di testa E visto che siamo A far vedere un attimo Le miniature Vi faccio vedere anche Guardate là accanto Vi faccio vedere anche Il boss finale Da combattere Che è qualcosa Che veramente Questo Questo ti butta Fuori di sentimento Porco mondo Guardate lì ragazzi Cioè guardate lì Cos'è questo Amore Questo va dipinto Come prima miniature Cioè guardate Quello di prima Già era grosso Guardate questo di ora Vabbè Si sta impazzendo A farvele vedere No ragazzi Capita a volte Che ci sprechiamo Un attimino Più di tempo Perché sono Veramente bellissime Mamma mia Dopo si gioca Dopo aver fatto il video Facciamogli vedere Un pochino Come funziona Una partita Allora ragazzi Quella che vedete qui È la missione principale Missione principale Che tra l'altro È anche molto semplice La cosa che Forse Dà subito All'occhio Ma Questo è un pochino Come in tutti i giochi Della fantasy flight Le dimensioni Poi possono variare È di mappa in mappa Però vedete Sono abbastanza contenute E facendovi una descrizione Questa è la mappa di gioco Composta Questa è la squadra di marine Con relativo portale Da cui entreranno in battaglia Poi vi faccio Vi dico anche a cosa serve Perché Quando un marine muore Viene fragato Può rientrare in gioco E rientrerà sempre Da quel portale lì Porte Ovviamente che dividono le stanze Portali Da cui sponano i demoni Quindi portale blu E portale verde Demoni che sono già in campo Che sono Esattamente Soldato posseduto Questi due qua Ed imp Oggetti Tipo questo qui Che è un medikit E un altro oggetto Che è qua giù in fondo Invece che è un lanciarazzi Quassù invece vedete Le carte iniziativa Che ora vi farò vedere Come funzionano La carta Del mostro dell'imp Quindi del gruppo Degli imp La carta del gruppo Dei soldati posseduti Le carte Evento Del giocatore Che usa gli intrusi Quindi Io lo chiamerò sempre così Del dungeon master Quello che muove i demoni La carta di spawn Che dice Quando verranno attivati I vari portali demoniaci Perché i demoni A parte quelli che sono già presenti Nella mappa Sponeranno sempre dei portali Qui verrà data Una duplice scelta Al dungeon master All'invasore Per sponare i demoni E poi invece Dalla parte di qua Vedete la parte più importante Ci sono le varie carte Dei marine Quindi ogni carta È legata a un marine Ogni marine C'ha 10 punti ferita E un'abilità speciale Nella prima avventura Non mi viene chiesto Di mettere Carte Classe Perché ogni marine Magari c'è quello Che è il capitano C'è quello che è lo scout Quello che è il soldato Quello è lo specialista Nella prima missione Andate oltre Comunque tanto poi Lo leggerete al manuale Semplicemente La carta classe Ti dà un'abilità in più E i mazzi Che vedete qui Sotto ciascun marine Sono personali Di quel marine E sono composti Sempre da 10 carte Sono composti Da 3 carte Per ogni arma Che ha Quindi dal mazzo Andate a cercare Che ne so La carta Le 3 carte Dell'arma di colore giallo E le 3 carte Dell'arma di colore viola Quindi 3 carte Più 3 carte Sono 6 Le altre 4 carte Sono standard Uguali Identiche Per tutti i marine Quindi prenderete Le 4 carte Standard del marine E sopra ci metterete Le 3 dell'arma E le 3 dell'arma Fino ad andare a comporre Un mazzo di 10 carte Quindi ad esempio Dentro questo marine qua Bravo Ci sono 3 carte Per l'arma gialla 3 carte Per l'arma viola E 4 carte Invece generiche Che hanno tutti gli altri marine Questa è la disposizione Del tavolo inizio Il gioco Si sviluppa In una fase Di status Iniziale E una fase Di azione successiva Che va sempre Con l'iniziativa Nella fase Di status Si ripristinano Tutte quante Le azioni usate Le abilità E mostri usate E quant'altro Per poi passare Alla fase vera e propria Che è quella Che è la fase Di attivazione Vi faccio vedere Come funziona Il giocatore Il giocatore Che fa il dungeon master E' quello Che andrà A girare le carte Ah scusate Prima di farvi vedere Questa cosa Vedete che nella mappa Ovviamente Ci deve essere sempre Linea di visuale Per quando si fa un attacco Vedete ci sono Delle linee rosse Che delimitano Una zona chiusa Dove non c'è visuale E ovviamente Le porte andranno aperte Da missione a missione Le regole di ingaggio Possono cambiare Qui ad esempio I demoni inizieranno A sponare Non appena Una porta verrà aperta E quindi venendo aperta L'invasore Dovrà mettere Demoni Che esponeranno Che usciranno Dai portali In questa missione I marine devono uccidere Tutti i demoni Mentre i demoni Devono fare almeno Due frag Quindi uccidere Almeno due marine Vi ricordo che Facendovi una carrellata Ad esempio Delle schede I marine hanno 10 punti ferita Come vedete qua giù 10 punti ferita Mentre i demoni Facendovi vedere Ad esempio Una carta Qui accanto E hanno velocità Quindi di quante Di quanti quadranti Si muovono Di quante caselle Si muovono Qui ci si può muovere Anche non soltanto Ortogonalmente Ma anche in diagonale Quindi anche il contatto In diagonale Va bene Di quante caselle Si muovono A quanta Quindi 4 A quanta Gittata tirano Quindi entro 4 al massimo Che da di tirano Quando fanno l'attacco Le abilità Che sono segnate Qua giù in fondo L'abilità speciale Che è segnata qua Che poi vi spiego Anche quella L'abilità argent Per usare Questi token Che sono i token argent Che possono guadagnare Giocando Per la prima missione Lasciate perdere Questi argent Serviranno nelle missioni successive Al giocatore Che muove il demone Per scartarne uno Ed attivare Un'abilità speciale Del demone Ma in questo caso Non ci serve Quindi la tolgo Concludono la scheda I punti ferita Del demone Che sono 3 Nel caso Del più piccolo imp Nel caso del soldato 5 E il livello Sotto in rosso Di sbilanciamento Vorrà dire che Quando il demone Subirà uno O più punti ferita Sarà sbilanciato E dopo vi faccio vedere A cosa serve È una delle cose Più fighe Più belle Che abbiamo visto Nell'ultimo Videogioco di Doom Inizia il turno Fase di status Nella fase di status Il giocatore Che muove i demoni Gira Una delle carte iniziativa Il mazzo delle carte iniziativa È sempre composto Da una carta iniziativa Per ciascun marine Quindi 4 carte Per i marine Più una carta Per ogni tipo di demone Quindi una carta Per il tipo degli imp E una carta Per il tipo del soldato Posseduto Quindi in tutto Sono una carta Due carte Quattro carte Sei carte qua Fase di iniziativa Ovviamente Se fossero state Tappate Perché quando si usa Un demone La carta va girata Per identificare appunto Più che altro Per ricordarsi Che sono stati usati Vanno stappate Non è questo il caso Quindi Prendiamo una carta Dall'iniziativa Giriamola La carta girata È il soldato Alfa Che andrebbero colorati E ovviamente Sarebbe più facile Colorandoli Però andiamo ad identificare Qual è È il soldato Alfa Fra tutti questi È questo qui Quindi Toccando al Soldato Alfa Per primo Il soldato Alfa Dovrà sempre All'inizio del suo turno Avere 3 carte in mano 3 carte che andrà a pescare Dal suo mazzo Di 10 Che vi ho fatto vedere Inizialmente Quindi prendo il mazzo Delle 10 Ne pesco 3 1 2 3 Rimetto Le restanti A posto E ora devo vedere Che cosa ho pescato E che cosa ho in mano Queste sono le carte Che ha pescato Il Marine Alfa Queste carte Cosa ci dicono Intanto ci dicono Che Vedete ci sono dei simboli Qua sopra Dei simbolini qui nel cerchio Intanto ci dà la descrizione Dell'attacco Del tipo insomma Di azione che possiamo fare Questi simboli qua su Vuol dire Quando c'è questa freccia così È un'azione principale Quando c'è quest'altra qui È un'azione secondaria O azione bonus Il gioco ci dice Che per ogni turno Il Marine può fare Una e una sola azione principale Quindi nel caso Volesse fare L'azione di questa carta Qui potrà farla Una volta sola E dopo questa Avrà finito Le sue azioni E un numero Imprecisato Quindi infinito Di carte bonus Quindi lui ha Due carte bonus Una carta principale Potrebbe addirittura Usarle tutte e tre Usare questa Usare quelle altre Tanto nel turno successivo Dovranno sempre essere Piscate tante carte Fino averne tre in mano Il Marine Ora Si dovrebbe muovere E la carta cosa ci dice Le carte ci dicono Il livello di movimento Che danno al personaggio Più ovviamente Leggete sempre la descrizione Che vi dice anche Che cosa fa In particolare Quella carta Ma per ora Lo escludiamo La prima ci dice Che è un'azione Principale Quindi posso fare Questa e nessun'altra E in più ci dice Di quante caselle Mi posso muovere Vedete sotto Quindi il Marine Si muove di quattro E la gittata A cui potrò Sparare e attaccare Quindi cinque E i dadi Che dovrò tirare Che sono due Rossi Potrebbero essere anche Rossi e neri Comunque in questo caso Due rossi Quindi tornando Nella schermata del gioco Il soldato alfa Si muove Usando quella carta Che vi ho fatto vedere Precedentemente Che sarebbe questa qui Che questa carta Ci dice che Il soldato alfa Si muove di quattro E può arrivare A sparare Una gittata Di cinque Quindi si muove Di quattro E fa uno E direi che Come azione Gli basta Quando fa il movimento Se il movimento Lo interrompete Per fare una Qualsiasi altra azione Poi il movimento Ovviamente è perso È finito Quindi nel caso Lui si fermi lì Per sparare A questo imp Il suo movimento Sarà finito Per tracciare La gittata Da un attaccante A un difensore Prendete sempre Uno dei quattro angoli Della casella Dove si trova E tracciato Una linea immaginaria Verso un qualsiasi Altro angolo Della casella Dove si trova Il difensore Se la linea Passa tranquillamente E non ci sono porte Righe rosso O altre cose Vuol dire che Il nemico ha gittata Se invece fosse coperto Da una porta Da una linea rosso O altro Vorrebbe dire che Fuori gittata E quindi Non sarebbe possibile Sparargli Contiamo le caselle Uno Due Tre Lui si trova Agittata Tre Quindi è agittata Vi ricordate che L'arma mi ha detto Ok puoi fare Un attacco Agittata Cinque Ci siamo Siamo agittata Tre Tirando Due dadi Rossi Noi andremo A tirare Ora fingiamo Un tiro Andremo A tirare I dadi Rossi E magari Saranno usciti Tre simboli Di colpito Adesso Toccherà Al demone Difendersi Adesso Tocca al demone Difendersi Che per difendersi Nel gioco di doom Nel gioco da tavola di doom Non c'è da fare Un tiro di dado Si va Ricorda anche un po' Viaggi nella terra di mezzo Il demone Va a pescare Una delle sue carte Qua su in cima Dal suo mazzo Quaggiù degli eventi La va a pescare La va a girare E qua su in alto a destra Vediamo il simbolo Se c'è il simbolo Di uno scudo Vuol dire che ha assorbito Tot colpi Quanto sono gli scudi Quindi in questo caso Uno solo E gli rimangono Due ferite Se ci fosse Ci possono essere Altri simboli vari Che un simbolo Potrebbe essere Attivare L'abilità del demone Magari un'abilità speciale Che dice Quando subisce una ferita Automaticamente fa un contrattacco Oppure quando subisce una ferita Automaticamente viene annullata Dall'armatura Dalla schivata Oppure un simbolo Di schivata Se sulla carta Qua su ci fosse Un simbolo di schivata Vorrebbe dire Che il demone Ha schivato Completamente il colpo E non ha subito Nessuna ferita Che possano essere Tre o cinque O quant'altro Quindi in questo caso Ne ha assorbita Soltanto una Avendo preso Due punti ferita Leviamo un dado E gli altri due Li andiamo a segnare Con questi cursolini Qui Direttamente Nelle vicinanze Del demone Quindi Uno E uno Due Vi ricordate Come vi ho fatto vedere All'inizio Del video Che l'imp Ha tre punti ferita Quindi comunque Gli ne rimarrebbe uno Non è morto Però ha un valore Di sbilanciamento Vedete qua giù in fondo Di uno Questo cosa vuol dire Quando un demone Un mostro È sbilanciato Può essere ucciso Da una Combo finale Un po' come abbiamo visto In Doom Quando iniziano ad essere Tutti quanti illuminati Di arancione E di blu Che come gli va addosso Li puoi fare il colpo finale Questo cosa vuol dire Che nel turno successivo Magari Questo marine O anche qualsiasi altro Facciamo conto a questo Avesse Tanti movimenti Ok Quindi gira una carta E vede il valore Di movimento che ha Avesse tanto movimento Da arrivargli In corpo a corpo Non in corpo a corpo Scusate Ma sulla stessa casella Quindi magari Va avanti E arriva sulla stessa casella Di questo demone Potrebbe fargli Direttamente un corpo speciale Ucciderlo sul corpo Senza tirare niente Non c'è da pescare carta O da tirare dadi Automaticamente li va sulla casella Visto che è sbilanciato Lo uccide E dopo averlo ucciso Va a pescare Una carta Dal mazzo Delle uccisioni speciali Che danno un bonus immediato Che potrebbero essere Recuperare punti vita E cose del genere E questo Ragazzi È il combattimento Stessa cosa Quando dal mazzo Dell'iniziativa Verrà pescato un demone Il demone Direttamente Guarderà La sua carta Quindi saprà Quanto è il suo movimento Saprà Quanto è la sua cittata Saprà Quali sono i dadi Che deve tirare E saprà Quali sono le sue abilità Il combattimento Ragazzi è lo stesso Inutile che ve lo faccio Rivedere per i demoni Perché funziona Uguale Spiccicato Come per i marine Con la differenza Che il demone All'inizio Del suo turno Deve sempre Avere in mano Una mano Di sei carte Quindi le carte vento Avete visto La stessa che usate Per vedere se si difendeva Deve sempre Come marine Ce ne hanno in mano Tre Il giocatore del demone Deve sempre Averne in mano Dieci E scusate Sei E queste sei carte Daranno abilità speciali Daranno magari Controreazioni E cose varie Che potranno essere giocate Sia nel turno del demone Che nel turno del marine Quindi ricordatevi Marine Tre carte in mano All'inizio del turno Sempre Demone Comunque Il giocatore dell'invasore Sempre sei carte Evento In mano Quindi dovrà sempre Averne sei Conclude ovviamente Le regole sul tavolo Gli oggetti Ad esempio un medikit I mosti non li possono prendere Una volta che il marine Sarà arrivato a prendere Questo medikit Automaticamente Lo rimuoverà dal gioco E si curerà Di tot punti ferita E poi La carta Del lanciarazzi Che lanciarazzi BFG 9000 Ve lo ricordate Sono le armi Più forti di doom Quando il marine Dovesse arrivare A raccogliere Questo lanciarazzi Vi ricordo che Ciascun marine Non può portare Più di due armi Quindi dovrà scartare Una delle sue armi Prendere il suo mazzo Levare le tre carte Di quell'arma E mettere nella pila Degli scarti Prendere le armi La riserva delle armi Raccogliere le tre carte Invece del bazooka E a quel punto Si rifarà al mazzo Togliendo praticamente Facciamo conto Lui abbia tolto Un'arma verde Per sostituirla Con quella marrone Eleverà le tre carte verdi Dal mazzo E ci metterà Le sostituirà Con quelle marroni Del bazooka E questo ragazzi È il regolamento di gioco La prima missione Poi cosa ci dice Ci dice che quando Un giocatore Un marine Ovviamente Arriva davanti a un portone Spendendo una sola azione Di movimento Può aprire il portone E a quel punto Il giocatore Che usa i demoni Avrà da fare una scelta Guardando da questa carta Questa carta Cosa ci dice A livello blu Col portale blu Posso scegliere Ed evocare questo O questo Quindi quello che c'è E fare esponare I demoni Intorno al portale Ricordatevi che Una volta che il portale È stato usato Sparisce Si gira dall'altra parte Per ricordarci che è stato usato Quindi non potrà più essere utilizzato E il giocatore invasore Che muove i demoni Dovrà mettere i demoni Tutti intorno al portale Sopra e intorno al portale Ovviamente Devono essere adecenti Dal portale giallo Appena attivato Invece si andrà a vedere Quale delle due scelte Sarà più indicata Per il giocatore Che muove i demoni Quindi o la A O la B Lo stesso Questa è la fase di generazione Quando un marine Uccide un demone L'ha ucciso Si rimuove dal tavolo E non succede niente Non ci sono carte Non ci sono bonus Quando un marine Uccide un demone Sbilanciato Ma non sparandogli Perché sparandogli Non funziona Uccidere uno sbilanciato Come vi ho detto Gli deve andare sopra Contando le caselle Che lo dividono E a quel punto Pescherà una carta Uccisione speciale In questa prima missione Il gioco ci dice Che quando Il giocatore dei marine Uccide tutti i demoni Tutti Deve ripulire completamente La mappa Ha vinto la missione Mentre invece Il demone Deve uccidere due marine Ogni volta che un marine Subisce delle ferite Noi andiamo a prendere Le ferite che ha subito Dall'attacco del demone Le andiamo a mettere Sulla scheda del marine Sulla scheda del marine E quando il marine Arriva a 10 O più Ovviamente punti ferita Il marine È fragato Rimosso Quando un marine È fragato Il giocatore Che muove i demoni Prende un cursore Frag Che si mette Dalla sua parte Del tavolo E quando ne avrà guadagnati Due in questa missione Avrà vinto l'avventura Si fa tutta quanta la fase Si ripescano le carte Iniziativa Per vedere chi muove dopo Se muovono i marine O muovono Insomma Quando tutti i demoni E i marine Si sono mossi Automaticamente Dal portale di partenza Che vi ho fatto vedere Il marine Che è morto Torna in vita Come se fosse una modalità Multiplayer online Di Doom Torna in vita E tornando in vita Ovviamente Ria tutte le sue abilità Ria tutte quante le sue carte Non perde assolutamente niente È tornato in vita Come era prima di morire Solo con la differenza Che riparte da lì E la prossima volta Che un antromarine Verrà fraggato Questa missione Sarà finita Questi ragazzi Sono tutte le regole del gioco Poi ovviamente Il manuale ci dà Anche delle regole avanzate Che per la prima partita Non servono Proprio per niente Cioè potete anche farne A meno tranquillamente E andare avanti Ad esempio c'è la regola Dello stordimento Che quando un marine Subisce tot colpi O tot punti ferita Rimane stordito E rimanendo stordito Praticamente avrà demalus Tipo quando sarà attaccato Non potrà assolutamente Girare nessuna carta Perché come i demoni Girano le loro carte Iniziativa per difendersi Anche il marine Quando toccherà lui Che sarà ferito Dovrà pescare una carta Girarla E vedere il numero di scudi Che sono qua su in cima Nel caso il marine Fosse stordito Non potrebbe girare nessuna carta E prenderebbe automaticamente Tutti i punti ferita Ragazzi queste sono tutte Le regole di base Per iniziare a giocare Ovviamente le quattro regole In croce avanzate Le trovate direttamente Sul manualetto Ragazzi in conclusione Questo è il gioco Da tavolo di Doom È un gioco semplicissimo Forse a livello di token Forse a livello di token No non ce n'ha tantissimi Le chiamo i coriandoli Vi ricordate come Deep Madness Non ce n'ha tantissimi In più basta veramente Un tavolo abbastanza Piccolino per giocare Perché l'avete visto Prende poco tavolo Parte missioni di partenza Ma anche l'arte Non è che sono più di tanto grandi Perché è un gioco Che punta tutto Sulle battaglie Non è un gioco Alla battle station Dove c'è da muoversi Tante caselle Qui il movimento conta poco Conta veramente Il combattimento Il frag che poi È la cosa bella di Doom Forse c'ha un po' troppe carte Perché pesca la carta iniziativa Pesca Cioè si rischia veramente Di mettere una carta Su un'altra E di fare casino Quindi le carte Vedete sempre di dividerle bene Cioè mettete un giocatore incaricato Uno che deve mettere Tutte le carte scartate Nella pila degli scarti Che si rischia Di fare casino velocemente Perché ci sono tante carte Comunque il gioco È veramente molto bello È veloce È immediato È semplice Ed è Doom Questo è veramente Doom Era inutile cercare Di fare cose più complesse Arriva alla console E invia i dati Verso la terra Per la richiesta di soccorso Doom è un gioco Dove si spara e si ammazza Si salta e si fragga Ed è per quello che è bello Infatti Lì per lì Mi aveva fatto un po' di ostorgere il naso Che come Già ci metto tanto Ad ammazzare il giocatore Che usa Marine Perché secondo me Quello che muove Marine È leggermente avvantaggiato Marine sono veramente OP Rispetto ai demoni Ma è anche giusto A parte fino a che non arriva lui Quando arriva lui Non so più OP Ma lo ammazza tutti Quindi occhio Però Quando un Marine muore Viene fraggato Poi torna in vita Ma come Già ci ho messo tanto a ammazzarle E poi torna in vita Però ripensando C'è Doom Ragazzi è Doom Cioè non puoi fare Un gioco di Doom Che non sia veramente Come la Controparte Videoludiche Secondo me l'hanno fatto Perfetto Perfetto E torno a dire Che la Fantasy Flight Quando fa un gioco Loro sono bravi Perché non tanto Per le miniature Le regole e tutto Che il regolamento Non è niente di che In questo gioco Secondo me per certi versi È anche un pochino Confusionare a livello di carte Però c'entrano sempre l'obiettivo Fanno il gioco Del Signore degli Anelli Viaggi nella Terra di Mezzo E proprio ti sembra Adesso nella Terra di Mezzo Prendono tutta quanta L'essenza Della Terra di Mezzo Di Tolkien Oppure prendono Le case della follia E proprio si respira L'Overcraft Cioè te quando giochi Le case della follia Soprattutto alla seconda edizione No? Con magari La narrazione E tutto quanto Che è bellissimo Cioè te c'hai l'Overcraft Seduto accanto Che ti sta guardando E ti fa da Dungeon Master Riescono veramente A prendere A carpire l'essenza Di un gioco E qui in Doom hanno fatto Un'altra volta il boom Quindi Intanto ringrazio Ovviamente L'Asmo d'Italia Grazie ragazzi di cuore Grazie veramente È sempre un onore Collaborare con voi E siete sempre tempestivi Nelle risposte In fornici Nelle copie demo Ovviamente per farci Delle recensioni E i video Grazie veramente di cuore Se le devo dare un voto A questo Doom Le do un 8 su 10 Meritatissimo Passata appena i voti È Doom È un gioco per tutti Quindi anche qui ha vinto Perché magari se non avervi detto Vi do un 8 su 10 Un 7 e mezzo Però è un gioco di nicchia No Questo è un gioco per tutti Veramente si diventirà Come un matto Qualsiasi tipo di gruppo Però per gli amanti di Doom Questo può salire di un voto Quindi per me Questa volta un duplice voto È un 8 Per come la vedo io nel complessivo Però per un fanatico Assolutamente Doom può salire anche di un voto E arrivare a 9 Quindi veramente Bellissimo Ragazzi Trovate in sovrimpressione In descrizione Il link dove acquistarlo Quindi se volete acquistare Doom Trovate il link in descrizione In sovrimpressione La nostra pagina Typee Se volete fare una donazione Un supporto Per aiutarci a portare avanti Questa passione La nostra casella postale Nel caso vogliate inviarci Un gioco da tavolo Un gioco di carte Farci un regalo Perché no Ci faremo sempre un video Un unboxing Ringraziandovi E la nostra pagina Di maledetti dadi Instagram Dove mettiamo sempre Pilloline E anche immagini Di giochi che ci arrivano Ragazzi il gioco È veramente bello È consigliatissimo E da te detta Come sempre D'altronde Non vi ho mai mostrato Un gioco che non mi piacesse Andate a dargli un occhio Perché merita 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 veramente molto E poi anche piccolino Compatto si porta a giro Quindi è veramente Non tascabile Ma quasi Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere Cosa ne pensate Con un commento Ciao alla prossima Ciao